Oggi è la festa delle donne, un augurio caro a tutte le donne, ma consentitemi, particolare a tutte le donne che oggi si stanno impegnando per darci una mano a superare l'emergenza del coronavirus, ai medici, alle infermiere, alle operatrici sociosanitarie, alle donne del volontariato, alle donne della protezione civile, alle donne della nostra cabina di regia, a tutte le donne che si stanno impegnando con la capacità e la dedizione che è tipica delle donne, del mondo femminile, che ha una determinazione superiore all'altra parte del mondo. Grazie, grazie di tutto e tanti, tanti cari auguri.